si danno da fare giorno numero 6 sono andati il 5 e oggi il 10 5 bestioline feroci ho creato cinque mostricini io mi voglio bene hai perso la strada guarda lì la tua tettina hai trovata no 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 hai sbagliato strada così 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 prendi bene bravo senti 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 riprendila bene qua riprendi 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 qua qua non il mio dito però con la tettina della mamma bravo ah come si bravo sono un po scomodo perché gli altri non si spostano adesso l'ho trovata bene mi sono fatto l'arco ciao a tutti buona giornata niente da fare ti devo aiutare ancora senti 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 così così ma non il mio dito però né su di gli altri due spostarsi un po di fatti un po largo adesso l'abbiamo presa non la vogliamo più buona giornata a tutti ciao